Bella a tutti ragazzi qui è GTA Pro in questo nuovo video Vi parlerò di alcune notizie molto importanti riguardanti GTA Online Prima di iniziare con il video vi invito a lasciare un bel pollice in su a questo video per supportarmi Supportatemi tantissimo lasciando un bel pollice in su a questo video Visto che negli ultimi video ragazzi non abbiamo fatto un buon numero di like Quindi raga mi raccomando supportatemi lasciando tantissimi like a questo video La maggior parte di voi ragazzi molto probabilmente avranno almeno una volta visto Un generatore di GTA Online per soldi, RP e tutto il resto Pubblicano questi generatori appunto nei gruppi di GTA, nei video di GTA Perché appunto la gente che guarda quel video ha bisogno di soldi e quindi facilmente può cascarci Io vi voglio dire solamente ragazzi che questi generatori sono tutti fake Non esistono generatori di GTA per soldi e RP Quindi ragazzi mi raccomando state molto attenti Questi generatori semplicemente vogliono o rubarvi l'account oppure attivarvi offerte sul telefono Che poi alla fine è veramente un casino anche levarle perché sono appunto offerte che vengono attivate Praticamente in automatico quando noi andiamo sul generatore Quindi ragazzi mi raccomando non andate su questi siti perché non sono veramente generatori Ma semplicemente vogliono fottervi In qualche modo Io molte volte ho appunto visto questi post di questa gente che tra l'altro non è nemmeno italiana Che appunto fanno questi post dicendo ad esempio Se vuoi avere soldi ad esempio 999 di miliardi di milioni E anche rango tipo che manco esiste, numeri stranissimi Praticamente ti dicono clicca in sul link qui e puoi avere soldi, RP e tutto il resto gratis Alcune volte ragazzi ho pure cliccato in questi link per vedere appunto se effettivamente questa cosa era vera Ma ovviamente si sa che queste cose qui sono finte Ho dato un'occhiata a questi siti ragazzi per vedere come erano fatti Ho notato che in alcuni siti praticamente c'è anche una chat Con ad esempio dei nomi appunto censurati che non vengono mostrati Con gente che scrive ad esempio Oh mio dio funziona, fantastico, grazie mille, funziona tutto bene Eccetera eccetera ragazzi Così praticamente vi fa sembrare tutto più realistico come se questa cosa qua fosse appunto vera Che in realtà appunto è solamente una truffa Quindi in questo video qua eravamo detto appunto brevissimo Solo per avvisarvi di questa cosa qua che sta spopolando nella community di GTA Visto che praticamente questi link, questi generatori si trovano appunto ovunque Soprattutto ragazzi nei gruppi di GTA Quindi state molto attenti a questi link Quindi niente, questo video finisce qui Spero che questo video vi sia piaciuto Supportate, grazie lasciando tutti quanti un bel pollice in su a questo video per supportarmi Iscrivetevi se siete nuovi Se non volete perdervi altri video di GTA E noi ci vediamo in un prossimo video Bella